PAUTATI PASQUALE Presente Matricola 00761 Pressione arteriosa 80-120 Reazione di Mac-Lega 4,75% Reazione di Pallero 16,5 Gamma glutamil trasfeptina 28% Fosfatasi alcalina 0,57% Reazione di Kunker-Burman 42,9 alfa positivo Non avrà mica preso cortisone camicitina? No, no, preso la metropolitana Venga Bene, bene, signor Baudaffi Pasquale Baudaffi Pasquale Ha risposto all'annuncio ed è stato subito assunto Grazie, che le sembra? Roba bella, bella veramente No, 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 la fabbrica Ah, quanto è belle tutte le lambadie, tutte le macchinette Le più sofisticate elaborazioni della cimarnetica Ma per noi il bene più prezioso sono i nostri cari lavoratori Lei Prego, si accomodi Grazie Ecco, questo è il suo posto di lavoro Prego Si accomodi Adesso attiviamo Che colore è questo? Rosso Bravo E questo? Verde Bravo, molto bravo Allora adesso sentirà un cicalino Si Al primo suono di cicalino accende queste luce rosse Al secondo suono di cicalino accende questa verde Al terzo suono spegne tutto Questo è il suo lavoro Tutto qui Tutto qui Semplice? Semplice, sì Grazie La sua soddisfazione è il nostro miglior premio Semplice, sì Hossa Niente Verde Un momento, mi sto soffiando il nesso Come va? Bene Si annoia un pochino Beh certo, non è che è una cosa Allora mi dovrebbe usare una cortesia Rosso, rosso, rosso Sempre se no in comodo Per carità Ecco, tra un intervallo e l'altro Si, tra un rosso e un verde Tra un rosso e un verde Mi dovrebbe attivare la telescrivente col Q Col Q? Si, ecco questo bottone Q Ah col Q la lettera Piggiando qui si attiva Mentre amici, piggiando la S Passiva No, si disattiva Ecco qua, vede? Con la Q si attiva Con la S e si disattiva Bello Questo per 8 punti 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah un momento, mi stanno Un momento, sto parlando con il direttore Chiaro? Chiarissimo Semplicissimo Semplicissimo La sua soddisfazione è il nostro miglior premio Pi ri-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi Ow Ma va bene 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 bore Un momento, sto facendo la Q. Sì, buco, non c'è detto. Scusi tanto, sono gli otto buchi, sono gli otto buchi, sono gli otto buchi dell'acqua, scusi. Buco, sbagliato. Buco, sbagliato. Buco, sbagliato. Buco, sbagliato. E non lo sapevo, scusi tanto. Buco, sbagliato. Buco, sbagliato. Buco, sbagliato. Buco, sbagliato. Sì, ma adesso pu... buco, sbagliato. Dica. No, non c'è. E non so dove sta, io sono il nuovo impiegato, Pasquale Baudaffi. Senti, è un gioc tempo, richiamo un altro momento. Stiamo a miseria. Un momento, stavo... stavo rispondendo, no? Come va? Benissimo. Bene. Senta, signor direttore, hanno telefonato per lei prima, io non sapevo, risposto io. Ha fatto bene. Benissimo. Venga, mi dovrebbe fare una cortesia. Dica. Se dovessero richiamare, le rispiace rispondere che il dottor Thomas non è in sede? Tutto qui? Beh, dato che va a rispondere al telefono, mi dovrebbe fare una cortesia sempre che non le dispiace. Ecco. Mi dovrebbe attivare questo cipito Z. Eh? E basta. Beh, questa qui, sempre che non le dispiace. Qui c'è una leva. Attivato il circuito Z, bisogna disattivarlo. In questa maniera... Chiaro? Questo prima di rispondere al telefono. Sì. Quindi se io sento suonare il telefono, vengo lì e attivo il circuito Z e poi... Disattivo. Poi dico, il dottor Thomas non è in sede. Chiaro. Chiarissimo. Semplicissimo. Grazie. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Chiaro. 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 Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Chiaro. Ah, il rosa. Sì, il dottor Thomas non è in sede. Come va? Bene, benissimo. Bene. Aspetta. Sede. Sede. Il dottor Thomas non è in sede. Bravo. Mi compiaccio. Prego. Sa cos'è questo? Questo? Un peschetto? Avvisatore acustico. Zufolandone l'avvisatore. Prego. Lei attiva un circuito Y di rigore. Di rigore, va. Poi, sempre se non le dispiace, qua c'è una leva che lei disattiva. Chiaro? Un momento che riepilogo un attimo. Tu che io sanno squillare il telefono. Faccio. Vengo di qua. Sì. Il circuito Z. Poi pirimiri. E disattiva. Questa è il dottor Thomas non è in sede. Attacco. In rigore. Vengo qua. Sì. Sì. Facile. Chiaro? Chiarissimo. Grazie. La sua soddisfazione è il nostro programma. La sua soddisfazione è il nostro progior premio. Guarda! Rigore! Dottor Tomas, lo riuscite? Guarda! Rosso! Col cu, col cu! Verde, si passa! Un, due, tre, quattro, cin, tre, otto, otto cugli! Non c'è! La soddisfazione! Rigore, non c'è! Pulizione! Arbitro corruto! Non c'è il sed emé, non c'è il sed emé! Servuto hispetta! Si rigore! Lo riuscite! Dom loading! Governabili! Del. cables, twelve, 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 twelve... Vì, fin smiling! Compa ю.. Eh, testa, testa, testa! Ah, ah, non c'è! Ah, ah, ah! Oh, oh, oh! Alza, rigore! 11 metri, 11 metri! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Bravo! Signor diventore? Sì. Ma la sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Ah, 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 ah! Ce l'ha una scopa? Per farmi cosa? Siccome mi è rimasto il sedere libero, già che ci sono, do una pulitina all'ambiente. Sì! 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 Sì!